buongiorno buongiorno alla mamma niente è domenica e purtroppo stiamo per ripartire quindi adesso colazione prepariamo le valigie faremo un giretto un giretto in zona colosseo e torneremo a casa non voglio tornare a casa l'unica cosa che voglio fare è tornare a casa per vedere la mia tata pelosa che mi manca tanto mi è uscita sta cosa sulle labbra infatti adesso sono un po di burro cacao ma sono tutte scarpolate mi fanno male i cani la vita è sacciula faccio vedere il cucinino questa è la nostra stanza e questo è il cucinino con i vari tavolini delle varie capre ci sono i sacchettini con tutte le cose dentro la macchina del caffè lavandino e fornellito è veramente molto carino ve lo consiglio davvero tanto bene truccati siamo truccati adesso prepariamo le valigie e amore va bene alle deve fare i suoi bisogni ma non occorre dirlo a tutti io intanto preparo le valigie eccoci arrivati a piazza venezia eccoci arrivati a piazza eccoci arrivati a piazza eccoci arrivati a piazza eccoci arrivati a piazza ai cah� Grazie a tutti. 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 Tu sei un nano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove siamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti.